E' stata travolta da un'auto mentre andava al mare di prima mattina attraversando le strisce pedonali sul lungomare di Lido di Camaiore. Un impatto violentissimo che ha costato la vita a Anna Maria Rocchi, novantenne lucchese, moglie di Lamberto Mennucci, patron dello storico pastificio di Ponte Amoriano. L'incidente è avvenuto di fronte al bagno Graziano a Lido, al confine con Marina di Pietrasanta. La donna, presa in pieno da una Maserati che procedeva in direzione forte, ha perso conoscenze ed è arrivata in gravissime condizioni all'ospedale Versilia. Dove si è spenta dopo poche ore. E' stata a soccorso da un addetto del vicino distributore di benzina prima dell'arrivo dei sanitari della misericordia di Marina e dell'automedica del 118 che l'hanno trasportata in codice rosso al pronto soccorso. Ho sentito solo questa botta incredibile, questo colpo fortissimo, che peraltro pensavo fosse uno scontro fra una macchina o due macchine o uno scooter, qualcosa del genere. Ho capito subito che la cosa era piuttosto grave, ho chiamato il 118 spiegandogli le cose. La dinamica esatta dell'incidente al vaglio della polizia municipale di Camaiore, intervenuta insieme ai colleghi di Pietrasanta, sul posto anche i carabinieri di Lido, che hanno ascoltato l'uomo alla guida della Maserati e il personale della capitaneria di Porto di Viereggio che si trovava in zona. Il viale a mare è stato chiuso al traffico all'altezza della bussola fino al bagno Sirio, deviando la viabilità. La morte improvvisa dell'anziana signora, che a Lido aveva una seconda casa, getta nel lutto la comunità lucchese e di Ponte Amoriano, dove la famiglia Mennucci, dinastia di imprenditori della pasta, è molto conosciuta e da sempre radicata.